Ciao ragazzi, bentornati ad un video del canale. Oggi spacchettiamo un bel 3x spadellante di Megateen di quest'anno e volevo vedere un po' con voi come sono le pull, pull rate, vediamo cosa riusciamo a trovare. Ci divertiamo un po' per qualche minuto assieme, quindi lottiamo un attimo con la plastica dell'involucro e passiamo alla prima. Vediamo come si presentano, abbiamo solamente i 3 pacchetti della teen e la plastica dentro questo se ne va e questa rimane a me. Niente fronzoli, sto giro non abbiamo la busta a parte per le promo, cosa in cui sinceramente speravo, ma non importa. Partiamo dalla prima busta, non so se c'è un trick per vedere la più rara più avanti, ma non importa. Le ho prese in inglese perché in italiano erano finite. Hydrolander Orbit, Bioinsect Armor, va bene, queste veramente sono reprint, fuffa. Purell Street, che è appena stata reprintata, va bene. Abyss Dragon's War Soul, Delicious Memory. Un Albion, bene, già abbiamo pullato qualcosa di utile. Sicuramente carta usata. Una Yubel Quarter Century, ci può stare, questa è tra le promo possibili, diciamo. E poi abbiamo Veda Calanta, Blaze Belay the King, Chaos Beast e Meteor Rush Monocroid. Quindi le ultime 4 sono common, di cui non frega niente a nessuno. Le common fanno veramente pena a sto giro, non che di solito le common siano il fulcro delle teen, ma qua veramente stiamo parlando di livelli infimi. Ok, ho aggiustato un pochino il cavalletto, speriamo che si veda meglio. Quindi per ora le pull non sono grandiose per il primo pacchetto. Andiamo al secondo pacchetto. Abbiamo Le ultime 4 che abbiamo detto non interessano a nessuno. Jurrak, Ufolight, c'è un Pendulum Evolution, Mannadion Torrid, Genite Quartz, Azura King, Big Welcome, non male, e il braccio sinistro del Proibito. Questo ovviamente a me interessa, ma è un altro promo di quelle che... No, sono un po' discutibili. Big Welcome invece, ottima carta. Andiamo a prendere le ultime 4. Le rimettiamo su. Frega niente, frega niente, frega niente. Non di sicuro un buon reprint, non importa nulla. Abbiamo Ricciardetto, Master Tau, Shadow Ghoul of the Labyrinth, finalmente ha una rarità decente, Snake Eye Hawk e Phantom Knights of Silent Booth. È un diet jamming che ho sbagliato. Silent Booth Quarter Century non è male. Hawk Secret ci interessa molto relativamente. Boh, gli riprint Snake Eye proprio non non interessano per me. Passiamo alla seconda Tin. Qui dovrebbe essere comunque riprintato tutto il core. la prima Tin di value non ha praticamente nulla perché Hawk non sta a niente. L'unica carta che stava a qualcosa forse è Sunkifier che stava sui 20-25. Contando che la Tin costa tra i 20-30 euro abbiamo una carta decente. andiamo avanti seconda Tin prima Busta ultime 4 abbiamo detto sono Common quindi questa è uscita già bella piegata perfetto Trascendo Sauro l'unica carta decente Mirror Sword Knight Pur Relip Instant Contact Grand Guignol ok questa mi serviva e Yellow Gadget Quarter Century dobbiamo separare ma sì la separiamo questa è la seconda Tin secondo pacchetto della seconda Tin abbiamo le ultime 4 Locca Samsara Circolo delle Fate veramente non c'è nulla cioè Penguin Evolution usciva Common e ancora Common Creepy Little Punk va bene Mighty Dino Rex Sweet Dreams de Muleria Firewall Dragon Singularity che esce con la Parallel Secret molto buona è una Secret che già non stava tantissimo ma Parallel fa comunque la sua propria figura e Parallel Exceed Quarter Parallel Exceed Quarter non è una bruttissima carta ma comunque insomma insommina andiamo un'altra box un'altra box sì ultima busta Veda Calanta Manticoro Smashing il nulla cosmico ok poi Reprint Vicanco Motorbike Ultra direi che proprio ci sta Fire Attack Ultra ci sta Insetti sicuramente questo è un buon reprint e Opening of the Spirit Gates Quarter Century ci può stare Insetti è sicuramente un buon colpaccio perché iniziava a salire di prezzo ovviamente prima che ne annunciassero il reprint stava sui 20 25 euro quindi direi che comunque di reprint buone una a box per ora l'abbiamo trovata le Ultra sono dei buoni Rarity Bump devo ammettere che Shadow Ghoul Ultra fa la sua porca figura per il resto però i Purrly sono appena 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 stati reprintati non vedevo tutta questa necessità di di andarli a reprintare nuovamente quindi andiamo a metterli un po' in ordine e vediamo la terza e ultima tin tra quelle che ho acquistato tra l'altro throwback con il tappetino della Gabiba per chi si ricorda quando ancora facevo i video col tappetino della Gabiba e se riuscissi mannaggia ad aprire statin lottiamo con la con la plastica eccoci qua terza e ultima tin per ora contenuto molto video basso niente di di eclatante per cui strapparsi i capelli partiamo quindi dal primo pacchetto dell'ultima le ultime quattro abbiamo detto vanno sopra abbiamo il nulla nel senso che proprio di di utilità siamo sotto lo zero per legia draco doppio an aura non è male come rarity bump crowd goes wild è un buon reprint trust è sicuramente un'ottima carta e archfiend quarter ne sa archfiend quarter ne sa trust è una carta che sicuramente devo recuperare è una carta che mi manca ancora ed è sicuramente uno dei reprint migliori di queste team andiamo avanti seconda busta mini iruca è l'unica carta decente che ho visto per ora tra le common scarapai rostaccio per l'amor del cielo pure le sherry va bene non c'è niente di trascendentale qua poi abbiamo stand up centurion ultra buon rarity bump era solamente super o collector scusate quindi averlo ultra è sicuramente una una buona opzione pharaonic advent anche no forge a new future anche no heavy polymerization secret non se ne sentiva la mancanza galaxy eyes cypher dragon 20 50 invece molto molto bello questo finisce dritto dritto in galaxy eyes bellissimo veramente veramente bello terza e ultima busta della terza e ultima team vediamo un po' ultime 4 sopra qui abbiamo veramente il nulla cosmico poi dai darabocci va bene api api ultra ok richardetto un altro grandignol shark drake ok questa busta è un po' discutibile sì insomma a me sembra che rispetto dalle team del 2019 in poi siamo andati sempre più calando ovviamente le promo inserite all'interno della busta come possibile sbustata non mi entusiasma tantissimo l'idea è chiaro che magari adesso che Yubel è giocata avere una Yubel quarter century non è male trovare un pezzo di exodio adesso che sono usciti i supporti legacy trovare un phantom knight un opening of the spirit gates non è male yellow gadget per chi gioca a edison va sempre bene però insomma non sono carte che vorrei trovare all'interno di un pacchetto nel 2024 ecco sono cose più da rarity collection più da cose particolari più da operazione collezionismo insomma le secret invece bene o male per ora penso che l'unica di cui posso lamentarmi è heavy polymerization che veramente non serviva secret c'è da dire che abbiamo trovato due granguignol di fila va bene però big welcome hawk inseti trust sicuramente sono ottimi reprint tra le ultra a parte qualche rarity bump carino forge new future e pharaonic advent non è che proprio se ne sentiva il bisogno di averli fire attacker ultra ci può stare motorbike ultra ci può stare le micanco ci possono stare però c'è altri reprint ripeto i purre lì sono appena 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 stati reprintati da rarity collection 2 non vedevo motivo motivo serio per averli tra i possibili reprint tra l'altro a ultra non lo so mi sarei aspettato una decisione diversa da parte di konami ecco sono uno scam sni nel senso che sicuramente tra le ultra al momento non c'è non c'è nessuna carta che abbia un valore almeno di quelli che ho trovato non avevano un valore prima continuano a non avere un valore adesso tra le secret in ogni pacchetto ho trovato almeno una secret che stava a dei soldi e che adesso grazie a questo reprint è sicuramente più abbordabile e in ogni pacchetto ho trovato almeno una quarter cento di promo che potesse essere stuzzicante per qualcuno io dico se le trovate a 20 euro le trovate in offerta a un buon prezzo tiratele su con l'idea che ovviamente non trovate la carta che vi serve per quello vi consiglio sempre di passare dalle singole detto questo vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao